Ehi, amico, si si si, dico proprio a te, vieni, 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 ehi, la vuoi cosa di bello? Lo vuoi? Dai, seguimi! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a vedere una mod molto interessante che mi hanno consigliato in molti Questa mod si chiama compression tools e come dice il titolo stesso, compressa i tools, ovvero molto spesso vi capita di avere, che ne so, i vostri tools in diamante sempre nelle barre Doverli switchare con la rotellina, con i vostri bottoni e sappiatelo, è un trauma tantissimo grande Però, oggi abbiamo una soluzione, infatti, col nostro tool compressor possiamo compressare i nostri piccoli amici Basta mettere tutti gli item che volete, tutti i vostri tools, ora li ho messi tutti qui in diamante Mettiamo del coal, mettiamo della slimeball, prendiamo un impulso di desno, in questo caso useremo la td, no, useremo una leva E, ok, e pronti, switchiamo e aspettiamo che il nostro caro amico inizi a comprimere tutto in modo figo e carino Alla fine del processo avremo un qualcosa che potremmo definire fantastico, OP, ma soprattutto compresso, tanto compresso Ehi, amico, si, 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 dico proprio a te, vieni, 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 ehi, la vuoi cosa di bello? Lo vuoi? Dai, seguimi Ed eccolo qui, il nostro tools, tutto in uno Ta-da-dan-tan Ok, adesso andiamo in game mode 1, prima di tutto promettiamo il time set 0, ok E proviamo il nostro bellissimo tools Il tools riprende molto gli switch, diciamo, che c'erano in una mod che permetteva di cambiare automaticamente il tools che tracciavate a seconda dell'oggetto che spaccavate E, come vedete, si trasforma in qualsiasi oggetto noi andiamo a rompere Quindi in questo caso, se abbiamo della sand, userà la pala Se abbiamo un albero, userà l'ascia Ora vi faccio vedere, guardate qua Ta-dan E cambia pian piano la sua texture Quindi non vedrete mai all'inizio soltanto qualcosa Ma pian piano cambierà Abbiamo della dort qui, guardate che figa Ok, e cobblestone Ta-dan, bene Abbiamo 18 tools, tutti in uno Non vi basta? Bene Potete prendere i vostri tools E compressarli ancora Ancora, e ancora Inseriamo quindi altri tools qui dentro E switchiamo Lo switchiamo Perfetto Aspettiamo che l'altro procedimento sia pronto Per il nostro piccolo tools Fighissimo Un tools Tulloso Ancora più tools Di quando era prima Ed eccolo qui il nostro tools Ehm Alquanto gigante, devo dire Non ci sta manco Nel nostro coso Vabbè Ed eccolo qui Pronto per essere fighissimo E gigantesco Voglio tipo usarlo ancora Ancora E ancora Perché è troppo bello, davvero Non immaginate che figata che è Buttiamolo Non si vede È gigantesco Voi lo notate Ma lui È lì Pronto ad aiutarvi In ogni situazione Bene ragazzi Questo era Tools Compressor Spero la mod Vosa a piacervi E possiate utilizzarla Nei momenti più utili Della giornata di Minecraft Da Ulisse è tutto Ci vediamo nel prossimo video E fatemi sapere qui sotto nei commenti Se volete altri mod spotlight Ciao ragazzi Grazie a tutti